Allora, ciao a tutti. Stavolta volevo porre una domanda con questo mio video a tutti gli utenti che ultimamente stanno avendo problemi con YouTube nel caricare i video. Allora, sostanzialmente il problema che ho io è che la webcam che mi crea filmati in formato WMW me li carica, diciamo così, tranquillamente. A fine dell'upload mi compare un messaggio di errore, però nonostante questo il video va comunque in elaborazione e viene comunque segnalato tra i miei video disponibili. Quando però si tratta di video editati o comunque modificati, come per esempio le recensioni che ho creato e ricreato in formato AVI, MPEG e MP4, editati sia con PowerDirector 5, neanche modificati con videoconverter o con altri programmi, insomma, nonostante l'upload si completi correttamente, compare un messaggio di errore dicendo in cui YouTube non ha riconosciuto il formato del video. L'elaborazione, insomma, si interrompe a metà, più o meno. Pensavo fosse addirittura un problema di codec, però, insomma, ho aggiornato tutto il pacchetto di Keylight, però, insomma, il problema sussiste ancora. Quindi, per il momento non posso caricare recensioni editate, insomma, editate almeno nel modo tradizionale che finora vi ho sempre mostrato. Insomma, se qualcuno mi dà una mano a capire da cosa può dipendere questo problema, insomma, mi fa un'immensa cortesia, perché veramente ne sto provando di tutte. Però, insomma, continuo a YouTube a non riconoscermi il formato dei file, nonostante sia comunque MPEG, AVI, MP4, formati diffusissimi, ripeto, codec, aggiornati, però, insomma, non so da cosa possa dipendere. Se avete qualche idea a voi, per cortesia, fatemi sapere. Grazie a tutti e ancora dell'attenzione al prossimo video, se mai riuscirò a caricarlo.